Lorenzo Giovanotti riceve ora i regali di Natale della figlia e della mamma perché finalmente è negativo al virus Ho ricevuto dei regali di Natale favolosi Guardate, ho una figlia Sono Riccardo Ma no, questi sono... Cioè, l'ha fatti lei a un cinetto ai ferri Ai ferri sono fatti ai ferri Cioè, dei calzini pazzeschi ragazzi Questo è un regalo meraviglioso Meraviglioso, grazie Finalmente sono arrivati Cioè, sono negativo, ti abbraccio, sono negativo Ale E guardate La mamma La mia fra Che cosa mi ha regalato Un tappeto pazzesco Guarda Beh, è bellissimo Io sono un appassionato folle di tappeto Bene ragazzi Ora da oggi sono libero dal virus Sei contenta? Molto Allora siamo insieme un po' Ciao, buongiorno, buon anno Grande giovanotti Anche questa è passata Finalmente sei libero E puoi abbracciare di nuovo tua figlia E tutte le persone che stanno vicino a te Domino di poter Puoi abbracciare di nuovo brasile E tutte le persone che stanno vicino a te E tutte le persone che stanno vicino a te E tutte le persone che stanno vicino a te